L'Eurospina Alghero batte tra due la Cimas Roma e si porta ad un solo punto dal sesto posto. Il match è stato ricco di repentini ribaltamenti di fronte. Il primo set vede le due squadre arrivare sul 24 pari. Si va ai vantaggi, ma l'equilibrio non sembra rompersi. Solo sul 27-27 gli ospiti riescono a trovare due punti consecutivi, riuscendo a chiudere sul 29-27. Si teme un calo psicologico dei ragazzi di Coach Matta, ma così non è. Si continua sul filo del rasoio. Nuovo 24-24, ma stavolta sono i pallabolisti indigeni a trovare il doppio vantaggio, chiudendo sul 26-24. I Romani sono più attenti nei momenti topici del terzo parziale, che conquistano per 25-23. Altro giro, altra corsa ed il 4-7 è un nuovo stilicidio e emozioni. Si torna nuovamente sul 24 pari, si prosegue fino al 26-26, ma stavolta i vantaggi danno ragione agli algheresi, 28-26. Si valta i break e sull'onda dell'entusiasmo i rosso-blu chiudono vitoriosamente 15-8.